Come i narcotrafficanti, Robert Seldon Lady, l'ex capocentro della CIA a Milano, Bob l'Americano, la mente e il braccio del sequestro dell'ex imam a Buomar nel 2003 stava a Panama, è stato arrestato su un mandato di cattura internazionale disposto dall'ex ministro della giustizia Paola Severino. Seldon è stato condannato con sentenza definitiva a nove anni di carcere. Tre li sono stati indultati. Era l'unico 007 americano ricercato dalle autorità italiane per il rapimento del religioso egiziano. Gli agenti segreti della CIA condannati in tutto sono 23. Il ministero ora avvierà le pratiche per l'estradizione. Seldon, ex poliziotto di strada di New York, le ossa da agente segreto fatte in Centroamerica, era scappato nel 2005 dopo il primo mandato di cattura richiesto dalla procura di Milano. Probabilmente aveva avuto una soffiata. L'ultimo indirizzo in Italia era in una cascina vicino ad Astia, a Penango. Aveva un passaporto diplomatico col titolo di console americano in pensione. Due anni prima, con la cooperazione dei servizi segreti italiani, Bob Seldon aveva gestito il rapimento di Abu Omar, imam sospettato di terrorismo internazionale, un caso di rendition, di detenzione illegale col sequestro, il trasbordo nella base americana di Aviano e il trasferimento in Egitto. L'anno scorso il capo dello Stato napolitano ha graziato Joseph Romano, il cornello dell'Air Force che comandava la base di Aviano, condannato a sette anni, l'unico militare coinvolto nella vicenda. Tutti gli 007 americani condannati sono a piede libero all'estero. Sulla vicenda all'inizio è stato posto il segreto di Stato. L'ex capo del sismi Pollari a febbraio è stato condannato nel processo d'appello bis a dieci anni. Marco Mancini, numero due del servizio segreto militare, a nove anni. Altri 3007 italiani a sei anni.